La Cook Data Services era un'azienda fondata appunto da David Cook che forniva in generale servizi di software alle grandi industrie texane. Potendo godere già di una vita per sé qualitativamente alta, Sandy Cook, la moglie di David, stava risentendo di una certa noia e chiese al marito la possibilità di studiare le nuove frontiere del mercato. David non aveva nulla in contrario e Sandy decise così di acquistare un franchising, un brand di video noleggi chiamato VideoWorks. Ma le cose non andarono come Sandy sperava, infatti il brand VideoWorks non accettava il fatto che Sandy Cook dipingesse, avesse deciso di dipingere le pareti di blu e di giallo, che erano i suoi colori preferiti. Così Sandy decise di lasciar perdere e di tirare un'azienda, di tirare su un'azienda tutta sua. Un brand di vendita di videocassette, di VHS. Sandy e David avevano capito che il potenziale del video noleggio era inimmaginabile. Se siete cresciuti negli anni 90 sapete sicuramente qual è la differenza dei mondi che separano le piattaforme e l'era precedente, quella del video noleggio. Se non abitate in una piccola realtà e ciò che vi circonda è un contesto di almeno 30.000 abitanti, molto probabilmente nella vostra infanzia e nella vostra adolescenza sarete passati davanti ad un Blockbuster Video. Io sono Bella Ballò e ho avuto anche io una tessera Blockbuster pur non avendo noleggiato chissà quante videocassette, 3, 4, o 5, ma per il semplice fatto che il mio video noleggio era più vicino a casa, non era un Blockbuster Video. Ma credo di essere entrato in quei negozi dipinti appunto di blu e di giallo chissà quante decine di volte. Perché il fascino di quel brand e di quel posto, di quella dimensione era forte come un richiamo ancestrale. Se come me avete avuto la tessera al Blockbuster e avete noleggiato molti più film di me, oppure avevate un'altra tessera di un altro video noleggio perché vi era più vicino, vi suggerisco di proseguire la visione di questo contenuto. Iscrivervi al canale gratuitamente premendo il pulsante sottostante, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Vi ricordo che potete sostenere qualora lo vogliate il mio lavoro tramite i super grazie in basso a destra. Mando un enorme abbraccione a tutti voi che avete commentato e che ci siamo confrontati su tanti tanti video, mi ha fatto enormemente piacere e spero di portare contenuti simili più avanti. Detto questo, partiamo con il video di oggi. Sigla! Sapete dove si trova la località di Bend? Probabilmente no. Bend è una realtà di 100.000 abitanti nello stato dell'Oregon, lo stato che si trova sopra la California. È più probabile che conosciate l'uomo dove è situata la piccola realtà di Acilia. Piccola neanche troppo, realtà di 76.000 anime e non molto lontana dalla mia città, che è Roma. Sembra quasi assurdo dirlo, ma a partire dalla fine del 2023 queste due città, separate da oltre 8.500 km, hanno avuto per un tot di tempo una cosa in comune. Un blockbuster video! Nel 2019, infatti, la città di Bend, in Oregon, era rimasto l'ultimo baluardo del blockbuster video, il brand fondato dai coniugi Cook. L'ultimo esercizio con quel brand, blockbuster video, dove era possibile noleggiare DVD e persino qualche VHS, ma dubbito fortemente, in tutto il mondo. La notizia della chiusura del negozio a Morley in Australia aveva fatto il giro del mondo, poiché in quel preciso momento, con la chiusura di Morley, blockbuster video non sarebbe stato più un franchising, ma un punto vendita. In termini commerciali, le cose sono, in fin dei conti, rimaste le stesse, anche perché il punto ad Acilia è soltanto un nome tributo, non utilizza quel tipo di font, non utilizza quel tipo di colore. Un tributo alla old generation, alla vecchia scuola. Ehi re, da blockbuster trovi il tuo film o è gratis? Wow! Divertimento garantito! Blockbuster ha così tante copie di In Linea con l'Assassino e tu Fast to Furious che li trovi subito. O li noleggi gratis la prossima volta. Yahoo! Make it a blockbuster night. Il brand ufficiale, quindi, della catena resta soltanto nella cittadina di Bend, l'unico punto vendita, situato appunto nello stato dell'Oregon. E non nella più bella, famosa Portland, bensì in una città, in una realtà molto più piccola. Ma cosa è accaduto tra il 1985, l'anno di fondazione di quel brand, e il 2019? Com'è possibile che un titano del mercato di DVD e VHS, che disponeva di oltre 9.000 punti vendita in tutto il mondo, sia diventato un solo punto di vendita. Nonostante l'avvento dei nuovi formati digitali e dei primi software di download illegali prima dell'avvento di Netflix e compagnia cantante, nel 2005 Blockbuster Video aveva raggiunto il suo picco massimo di 9.094 punti vendita. Questo picco economico avviene quindi a 20 anni dall'apertura del primo punto vendita a Dallas, in Texas, nell'ottobre del 1985. Quel negozio vantava di almeno 2.000 beta e 8.000 videocassette. Il successo a Dallas permise a Cook, ai coniugi Cook, di aprire un enorme magazzino per i tempi che verranno, per il futuro. Un futuro che sarà fatto di grande successo appunto. Imagine the perfect video store. It would have a great selection, right? Right! Over 10.000 videos. Three evening rentals, so no rush, no hassle. Fax checkout. 24 hour quick drop return, open late every night. A partire dal 1987 iniziarono infatti le prime collaborazioni. Una su tutte quella di Wayne Wizenga, che era il fondatore della Waste Management, un soggetto, un CEO che era scettico inizialmente, ma che poi successivamente comprò diversi punti vendita, sostenendo quindi appunto il lavoro dei Cook. Il grande successo del Blockbuster fu anche quello di selezionare accuratamente il target dei suoi clienti, per lo più famiglie. Quindi la famiglia in primis, la totale assenza di materiale pornografico come era invece presente negli altri videonoleggi, ovviamente con la mitica tendina che separava il mondo normale dal mondo... sì. Nel 1988 Blockbuster, oltre al noleggio dei film, iniziò anche a mettere sugli scaffali le cartucce dei videogame delle console più famose in quel periodo. E quindi, ovviamente, starete tutti quanti pensando alla NES della Nintendo. L'azienda giapponese non aspettò molto tempo prima di intentare una causa contro Blockbuster Video, causa che perse poi nel 1989, nonostante un disperato appello al congresso degli Stati Uniti. Il brand di David e Sandy Cook divenne anche un gigante fra i maxi sponsor. Nel 1990 infatti vennero giocati i Blockbuster Bowl del football della NFL. La sponsorizzazione di Blockbuster Video durò per ben tre anni, fino al 1992. Nello stesso anno, ormai quello che si poteva ben definire ormai colosso, Blockbuster Video, comprò anche la catena Heralds, che era una diretta concorrente, aveva 250 punti vendita in tutti quanti gli Stati Uniti e venne immediatamente acquisita. Nel 1983 acquisì una partecipazione di controllo nella Spelling Entertainment Group, la società televisiva gestita dal potente produttore Aaron Spelling. Sì, il papa di Tori. Nonostante una guerra economicamente sanguinosa con la Time Warner e con un conseguente crollo del 10% in azioni, l'espansione di Blockbuster sembrava non avere limiti. Un accordo televisivo importantissimo venne stipulato con la Viacom, colei che controllerà poi successivamente un gigante come la Paramount Pictures. Nel 1994 infatti Viacom acquisì la totale controllo di Blockbuster per 8,4 miliardi di dollari. Il brand, ormai con le spalle ben coperte, decise di sbarcare anche in Europa, a partire dal Regno Unito. Nella perfida albione ovviamente trovò terreno fertile per progredire ulteriormente e crescere il proprio potenziale, pian piano cominciando a conquistare un po' tutti quanti gli altri paesi, Spagna, Portogallo, Francia, Germania e ovviamente anche l'Italia. E proprio quando l'espansione sembra non fermarsi, ecco che iniziano i primi problemi. Sono passati diversi anni da quando infatti Viacom ha acquisito il totale controllo di Blockbuster Video. E a partire dal 2007, ovvero l'anno di fondazione di Netflix, la prima grande piattaforma che poi è arrivata fino ai giorni nostri, piattaforma che forniva ovviamente un comodo, comodissimo servizio di streaming e quindi senza la scocciatura di uscire di casa, che per gli americani è una cosa sacra non uscire di casa perché la pigrizia li sommerge. Questo inquietante presagio diede una spinta in basso al brand di Blockbuster Video facendolo carambolare dappertutto. Secondo i Cook infatti quella caduta rovinosa con la nascita appunto di Netflix è stata più forte, più fragorosa della crisi finanziaria del 2008. Oltre all'avvicendarsi di altre piattaforme di streaming, ovviamente questo successivamente, e che stavano sancendo un nuovo tipo di mercato con l'abbandono del formato fisico, della videocassetta, del DVD, alcuni persino dei primi Blu-ray, Blockbuster iniziò rapidamente a chiudere tutti quanti i punti in Europa. Addirittura la totale sparizione di tutti i punti vendita in Spagna e Portogallo, seguiti poi da Germania, da Francia e in Italia rimase qualche punto e questa cosa noi ce la ricordiamo. I Blockbuster a un certo punto erano spariti della circolazione, questo specialmente nelle grandi città, ripeto, quindi Milano, Napoli, Roma, Bologna, Palermo, Bari. Nel nostro caso, nelle nostre grandi realtà, relativamente grandi realtà, c'è stato un drastico calo dei punti vendita aperti. Nel giro di nove anni in tutto il mondo, Blockbuster è passato da 9.094 punti vendita a 2. Nel 2019, ritornando un po' a bomba, l'unica città con il punto vendita Blockbuster aperto è rimasta appunto la cittadina di Bend, in Oregon. La sopravvivenza di questo ultimo baluardo del brand è dovuta al fatto principalmente dalla scarsa frequentazione ad internet della popolazione, cioè sono pigri al massimo. E proprio a seguito della famosa notizia, della clamorosa notizia, dell'ultimo punto che trasformava Blockbuster in un franchising, quindi con la chiusura del punto di Morley, tantissimi americani si sono messi in pellegrinaggio per visitare la cittadina di Bend e andare a vedere che cosa succede nell'ultimo baluardo di Blockbuster Video. Praticamente quello che si potrebbe ormai definire un mausoleo degli anni 90, qualcosa che rappresenta un'era recente, da molti toccata con mano, vissuta con passione, devozione e che ora è diventata semplicemente una trovata commerciale, sospesa fra l'assurdo e il nostalgico. La nostra generazione è stata testimone del boom dei video noleggi, a partire dalla fine degli anni 80, più o meno, forse anche leggermente prima. Metri quadrati e metri quadrati di formati ingombranti, ma dalle locandine indimenticabili. Abbiamo assistito all'avvento dei DVD, con la conseguente sparizione di tanti titoli considerati da molti scartabili. A volte anche da gridare allo scandalo, intendiamoci. Abbiamo comprato il Bancomat anche per noleggiare film in piena notte, ai famosi distributori automatici al di fuori dei video noleggi più recenti. E oggi invece possiamo reperire tutto quello che vogliamo con un solo click. Anche il titolo più introvabile, quello che magari non si trovava nemmeno girando 15-16 video noleggi nella nostra grande piccola realtà che fosse. La caduta dell'impero di Blockbuster, manifesto di un cambio epocale del mercato di distribuzione cinematografica. È una delle tante pagine del libro dei nostri tempi. Non è un brusco risveglio dopo un bellissimo sogno. Non è uno squallido colpo di scena. Semplicemente è il frutto del progresso. E dobbiamo accettarlo. Nonostante sia lecita alla fine di quel tempo, di quel tipo di mercato, con la cammirata pomeridiana per andare a dare un'occhiata al negozio, magari proprio a Blockbuster di zona, è giusto chiedersi se le cose sono migliori oggi o forse no. Io sono Bella Ballò e ci vediamo in un prossimo video.